Aggressione in pieno centro ai danni del presidente della regione Donato Toma e del suo collaboratore Maurizio Tiberio. E' proprio quest'ultimo ad aver avuto la peggio riportando la rottura del setto nasale a seguito della testata ricevuta in pieno volto da uno dei due protagonisti dell'episodio. Si tratta di un 25enne e di un 26enne residenti in provincia di Campobasso. Toma e Tiberio si trovavano poco dopo le 14 a pranzo in un ristorante di Via De Attellis nel centro di Campobasso, allorquando due giovani si sono avvicinati al tavolo dei commensali inveendo contro il presidente Toma con frasi ingiuriose e offensive. E' stato a quel punto che è intervenuto Tiberio che davanti al reiterarsi delle offese ha intimato ai due di allontanarsi ammonendoli che in caso contrario avrebbe chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I due hanno continuato con le offese allontanandosi poi in Via Roma. E' stato in quel momento che Tiberio ha lasciato il locale seguendo i due e cercando di identificarli. Avvicinatosi a questi ultimi ha ricevuto a bruciapelo una testata sul volto e a quel punto si è allontanato col viso pieno di sangue. Tiberio è stato prontamente trasportato all'ospedale accompagnato dallo stesso Toma al pronto soccorso del Cardarelli. Gli è stata riscontrata la frattura del setto nasale. Nel frattempo i due aggressori sono stati rintracciati e identificati dalla polizia che provvederà alla denuncia dei due presso l'autorità giudiziaria. Va detto che l'episodio risente di un clima di violenza verbale nei confronti della classe politica mai registrato prima in Molise. Soprattutto attraverso i social network oppure con l'utilizzo di veline, tutto sempre mascherato da profili anonimi, sono mesi che va avanti una volgare campagna di diffamazione all'indirizzo del governatore e dei suoi collaboratori. Un raccapricciante clima di odio verbale che non risparmia niente e nessuno, compresa la vita privata di coloro che finiscono nel mirino degli anonimi censori. La contrapposizione politica, anche aspre e dura, non è certo nuova verso il ceto politico ed è sacrosanta e legittima. Altra cosa è la sguaiata campagna d'odio alla quale si assiste da mesi. A seguito dell'episodio sono arrivate sia al presidente Toma che a Tiberio le espressioni di solidarietà di numerosi esponenti politici. Parole di vicinanza sono giunte dal sindaco di Campobasso Gravina, dai parlamentari Federico, Occhio Nero, Testamento e Tartaglione e dal garante regionale dei diritti della persona, Lanciano.